Buongiorno. Buongiorno. Ciao Beppe. Vanessa. Ciao Beppe. Ciao. Ciao Beppe. Ciao Samuele. No. Ciao Beppe. Sì, sì, ciao Beppe. Samuele, ciao ciao, buon appetito. Sei affreddata, Vanessa? Anita. Anita. Allergia. Porca miseria. Andiamo a fare. Ahiaiaia. Quindi siamo, 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 Samuele. Va bene. Oh, noi iniziamo. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, arriverà. Perfetto. Allora, condividi lo schermo, l'avete già condiviso. Ok, diamo un'altra bozza. Quiz. e partiamo subito con una bella scheda. Allora, questo lo mettiamo qua, che si vede un pochettino meglio. Va bene. Tiziana, è obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non mi siano segnali che lo vietino. Sì, vero. Vero? Certo. Allora, intanto andiamo a prendere anche Lisa che è arrivato. Perfetto. Anita, il segnale raffigurato indica la continuazione del divieto di sorpasso. Falso. Falso perché è la fine qua del divieto di sorpasso, no? Ma io non vedo lo scarbo. Non vedi niente? No, vedo solo le facce. Ma gli altri vedete? Io lo vedo. Eh? Io vedo. Io vedo. Ah. Anche io vedo. Anche io vedo. Non lo so, è la telecamera che... Non lo so come mai. Poi riuscire a rientrare. Poi riuscire a entrare. Ok. Vanessa, avvicinandosi ad un passaggio rivelato, con luci rosse lampeggianti alternativamente e semipateria accorrezzata, occorre predisporsi all'arresto. Vero. Vero, perché la barriera si abbassa sempre dopo. Quando si accendono le luci, bisogna già fermarsi. Perfetto. Ah, posso, ora vedo. Adesso vedi? Benissimo. Si vede che non è andato bene il collegamento. Allora, Samuele è questa. La doppia striscia continua in figura, non consente l'inversione nel senso di marcia. Vero. Vero. Doppia striscia è come se fosse un... Già la striscia è semplice. Doppia ancora... Più incisiva ancora. Elisa, il pannello raffigurato può essere sostituito da una bandiera di colore rosso delle dimensioni 50x50 cm. Falso. Falso. Non possiamo mettere una bandiera di colore rosso. Ok. Tiziana, il segnale raffigurato indica una strada riservata solo ai taxi. Falso. Falso, perché indica una strada riservata a tutti i veicoli ammatori, questo, non solamente ai taxi, non solamente alle auto, ma tutti quanti. Anita, sulla distanza di sicurezza influisce la velocità a cui si viaggia. Vero. Certo. Più vado veloce, è maggiore deve essere la distanza di sicurezza. Vanessa, il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite. Vero. Certamente. Samuele, se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte laterale bassa del torace o sull'addome. Vero. L'abbiamo visto ieri, questo, perfetto. Elisa, durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Vero. Certo, quindi fare attenzione quando si scende, non so stare troppo sul margine della strada, oppure così, eh. Vero. Allora, intanto è arrivata Desiree e andiamo ad agganciarci. Desiree. Desiree e chi anche? Ok, buh, vediamo. Desiree e Fofano. Fofano. Ok. Buongiorno. Desiree, buongiorno. Sei pronta subito a farmi una risposta, farmi una risposta? Eh, iniziamo, dai. Dai. La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione? Oddio. Eh, la distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione. Vero? Vero. La distanza di sicurezza minimo deve essere uguale al tempo di reazione. Se è maggiore è meglio, eh. Ok. Tanto vediamo chi è arrivato, Mattia. Fofano, ci sei? Ci sei, sì. Ok, buongiorno. Buongiorno. Allora, ti faccio questa domanda qua. Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve prestare assistenza agli infortunati secondo le proprie possibilità e conoscenze. Vero? Certo. Quindi se sei medico presterai qualcosa, se non sei medico fai quello che puoi. Ok? Ok. Mattia, mi senti? Mattia? Sì, ci sono. Ok. Allora, questa è tua. Il simbolo raffigurato è collocato sulla spia che indica l'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento del motore. Vero. Vero? Quindi una spia di colore rosso che indica che effettivamente abbiamo la temperatura del radiatore troppo alta, eh. Tiziana, un bel incrocio. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A, che è quello giallo, ha la destra occupata. Allora, l'incrocio dovrebbe svolgere così, passa il D prima, poi il C, poi il A. Quindi, ha la destra occupata. No, falso. Come no? Se passa prima il blu, poi il rosso, poi passa lui, quindi avrà... Ah, sì, sì, è vero. La domanda non è l'ordine con cui passa. Sì, sì, sì. Ah, capito. La domanda è riferita al veicolo A in questo momento. Sì, sì, è vero. Alla destra occupata, sì. Ok, perfetto. Anita, il segnale raffigurato consente la fermata del veicolo per la salita e la discesa dei passeggeri? Falso. Falso, perché è un diritto di fermata, quindi non possiamo proprio neanche pensare di fermarci. Ok? Vanessa, l'intersezione incrocio a raso è un incrocio fra una strada statale e i binari dai tram. Falso. Falso, perché è un incrocio a raso, gli incroci che troviamo comunemente nelle vie urbane. A raso vuol dire sullo stesso piano, ok? Samuele, il delineatore raffigurato invita il conducente a fare attenzione nel percorrere una curva. Verro. Certo, questo qui viene posto sulle curve delle strade sturbane, soprattutto se sono abbastanza strette per evidenziare di notte l'andamento della curva. Elisa, in presenza di segnale raffigurato e del semaforo a tre luci, dobbiamo dare a precedenza se il semaforo è a luce lampeggiante gialla? Falso. Falso, perché con questo segnale qui è un segnale di precedenza positivo, cioè abbiamo noi la precedenza perché siamo da una parte della freccia bianca. Desiree, su strada a due carreggiate separate, come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi vicino all'immagine sinistra della carreggiata. Falso. Falso, perché in ogni caso, anche se la carreggiata è separata, non dobbiamo sempre stare vicino all'immagine destra. Profani, il servo freno a depressione non può funzionare a motore spento. Falso, Beppe. Secondo me è falso. Il servo freno cos'è? È un dispositivo che funziona quando il motore è acceso, perché è comandato da una centrina elettronica. Ok? Quindi deve essere sempre acceso come il servo sterzo, se no non funziona, non fregniamo. Quindi, non può funzionare a motore spento, è vero. Mattia, in caso di nebbia fitta è opportuno evitare di fermarsi sulla carreggiata, se non per causa di forza maggiore. Vero. Certamente, perché già quando c'è la nebbia non si vede, quindi se non abbiamo proprio necessità per motivi gravi, è meglio trovare una piazzola di sosta. Tiziana, il titolare di patenti di categoria A2 può condurre anche le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli? Io direi vero. È vero, è vero. I patenti A possono condurre anche, sono praticamente quelle piccole che si usano nei giardini per tagliare l'erba, eh? Quelle piccoline. Anita, la responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto non sia considerato un reato? Falso. Falso mi dici? Io metto falso, vai. Non sono sicura, Beppe. Proviamo a mettere falso, va? Va bene, dai. Mettiamo falso, vai. Vediamo questo. Vediamo cosa succede, dai. Samuele, per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è opportuno praticare dei fori nel dispositivo silenziatore marmitta. Falso. Certo, la marmitta non dobbiamo mai bucarla perché sennò peggioriamo solo la situazione e diventa ancora più rumorosa. Elisa, in presenza del segnale raffigurato il conducente, salvo diverso ulteriore segnale, deve dare precedenza ai veicoli provenienti da destra. Vero? Vero. Vero, perché questo è il segnale che mi dice che è finito il mio diritto di precedenza. Quindi, essendo finito il mio diritto di precedenza, dovrò di nuovo attivare quello che è la regola generale, quindi dare la precedenza ai veicoli che vengono da destra, certo. Desiree, il limite massimo di velocità per un'autolettura nei centri abitati è ordinariamente di 50 km. Vero. Vero, perfetto. Ordinariamente, quindi quello classico. Pofana, giungendo all'introcio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra. Allora, qui dobbiamo pensare un attimino, perché non specifica quale rotatoria, perché potrebbe esserci una rotatoria alla francese, in cui dobbiamo dare effettivamente la precedenza ai veicoli che vengono da sinistra. Potrebbe essere ancora una rotatoria, non specifica, come ci sono una rotatoria in genere regale, no? Quelle all'italiana in cui alla precedenza chi entra. Quindi, visto che non specifica che tipo di rotatoria, dobbiamo mettere falso, ok? Perché ci sono delle rotatorie, vecchio metodo, che sono le cosiddette all'italiana, che vengono considerate come degli incroci a tutti gli effetti. Quindi vale la regola generale che chi arriva all'incrocio ha la precedenza se viene da destra, ok? Quindi, non specificando quale rotatoria sia, io metterò il falso, perché dice è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra, ok? Dove facciamo l'esame ci sarà una di queste rotonde, poi comunque la vedremo. Mattia, il signore affigurato vieta l'accesso agli aeroporti? Falso. Falso, perché mi indica di fare attenzione, è un signore di pericolo, ha eventualmente gli aerei in fase di atterraggio. Tiziana, i guanti a motociclisti omologati proteggono in particolare modo il dorso della mano in caso di impatto con corpi duri. Vero. Vero, perché hanno delle protezioni sul dorso della mano proprio per evitare se uno tocca o meno non si ruine la mano. Anita, il giubbotto retro riflettente ad alta visibilità protegge il conducente anche da rischi chimici, calore, fuoco ed elettricità. Falso. Falso, perché non è un giubbotto dei vigili del fuoco, è un giubbotto solo per farsi vedere, anzi, c'è il rischio che prenda fuoco. Ok, un errore, indovina qual è l'errore, eh? Mio, perché era vero. Esatto, andiamo a vedere dove era, dove era, dove era qua. Responsabilità penale, connessa al sinistro stradale e scusa quando il fatto non sia considerato un reato. Quando è fatto, quando è che è considerato un reato? Quando io ho un incidente grave dove ci sono feriti, dove ci sono morti addirittura, ok? Allora, in quel caso lì è considerato un reato, ma se no, un incidente normale non è mai un reato, anche se ci sono dei danni, ok? Va bene? Perfetto. Iniziamo quello che è il capitolo sulle assicurazioni, che è quello un pochettino, come quello delle patenti, che bisogna avere un pochettino più di memoria per memorizzare più che altro delle definizioni, eh? Niente di che. Allora, assicurazioni. Beh, intanto iniziamo a vedere quali sono le forme di responsabilità quando siamo la guida, ok? Che sono praticamente le forme di responsabilità che abbiamo nella vita di tutti i giorni, non solamente quando guidiamo, eh? Quindi va iniziando oggi l'assicurazione? Sì, iniziamo oggi. Ok. Ok? Comunque vi ricordo che sono sempre registrate, eh? Le lezioni, quindi se poi volete andare a rivedere, ce l'abbiamo. Allora, per responsabilità amministrativa, che cosa si intende? Si intende che se facciamo, non rispettiamo il codice della strada, per ogni infrazione che facciamo, sono previste delle multe che variano a seconda dell'infrazione. Più l'infrazione è grave e, ad esempio, fare un sorpasso in curva è un'infrazione più grave, che lasciare il veicolo in sosta vietata, ok? Quindi a seconda della pericolosità o meno, l'infrazione verrà commisurata in una sanzione amministrativa e si chiama appunto responsabilità amministrativa quella che noi dobbiamo ottemperare pagando la multa. Sappiamo che se appago entro i primi cinque giorni c'ho uno sconto del 20-30% su quello che è, ok? Però, attenzione, comporta la responsabilità amministrativa, comporta poi come responsabilità accessorie quello che sono, ad esempio, l'esecutazione di punti, ok? Quindi, purtroppo su certe infrazioni non finisce solo con pagare quello che è, diciamo, la multa, ma ci saranno altre, potrebbe comportare anche la sospensione della patente, ad esempio seguito in stato di ebrezza, ok? Quindi responsabilità amministrativa, diciamo, è quella principale che la troviamo sempre in ogni caso. Quindi, la seconda responsabilità civile è quella che se noi causiamo un danno a torto lo dobbiamo rimborsare. Questo non solamente, ripeto, quando siamo in auto, ma anche nella vita comune. Se il mio cane morde una persona, sono io responsabile del cane e devo rimborsarlo. Se mia moglie, quando bagna le piante, gli cade un vaso in testa a quella che passa sotto, sono sempre io responsabile della mia famiglia e dobbiamo rimborsarlo. Quindi responsabilità civile sarebbe il lobbio di rimborsare tutti i danni che possono essere causati, in questo caso, nel non rispettare una norma del codice della strada. Quindi non fermarsi a uno stop o non dare una precedenza. Per ultima, responsabilità penale, che si spera che non capiti mai, è quando c'è un incidente grave, quello che abbiamo risposto alla domanda prima, che diceva se c'è sempre responsabilità penale, grazie a Dio non c'è, ma c'è solamente quando c'è un incidente grave, dove c'è un morto, o ci sono dei feriti gravi. Quindi feriti gravi vuol dire dei feriti che stanno in ospedale con una prognosi continuativa di più di 40 giorni. Quindi, che ne so, un trauma cranico, un'amputazione di una gamba, robe gravi comunque. In questo caso qui, oltre a pagare la multa, perché la multa la dobbiamo pagare, perché ci sarà anche qui una sanzione amministrativa, oltre a rimborsare i danni che ho causato, dovrò anche sostenere quello che sono un processo, dovrò trovare un avvocato e cercare di difendermi per non rischiare di andare in carriera. Va bene, allora, responsabilità civile consiste, come dicevamo, nell'obbligo di risarcire danni causati a persone, cose e animali. L'assicurazione che obbligatoriamente abbiamo su tutti i veicoli, quindi dal motorino all'autotreno, all'autobus, all'autocarro, per poter circolare devono essere assicurati le responsabilità RCA, appunto, responsabilità civile e autoveicoli, che mi copre tutti i danni che io posso causare a persone, animali e cose. Quindi anche, messo un cane, lo ammazzo e devo rimborsare quello che è il valore affettivo del cane, il valore del cane, quello che è, e quindi la mia assicurazione chiaramente pagherà quello che è al proprietario del cane. Grava chiaramente sul conducente e anche sul proprietario del veicolo, quello che è la responsabilità. Questo perché? Perché magari io ho imprestato il mio veicolo a un mio amico che ha un incidente, ok? L'incidente, allora, mettiamo solo che non ci sia, se non ci sia una cosa grave. No, mettiamo che ci sia una cosa grave, che quindi il mio amico ha ferito una persona. Per quanto riguarda la responsabilità penale, lui ne risponde penalmente, ok? Per quanto riguarda la responsabilità civile, ne rispondo io come proprietario del veicolo, perché il veicolo è mio e quindi l'assicurazione che ho obbligato risponderà dei danni, ok? Quindi la responsabilità civile copre, cioè comporta la responsabilità sia di chi guida e sia del proprietario del veicolo, se è diverso. Mentre la responsabilità civile non grava sul proprietario se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Cosa vuol dire? Mi hanno rubato l'auto, chiaramente non avevo fatto denuncia. Chi la guidava in quel momento ha dei danni o comunque un incidente, a quel punto lì non sono più io responsabile perché effettivamente chi guidava l'auto me l'ha rubata, non sono stato io che glielo ho imprestata. E di conseguenza però ci deve essere una denuncia che dimostra che il veicolo sta guidando una persona che non è autorizzata da me. Eventualmente, nell'eventualità che ci siano pochi danni, ok? Quindi chi è soggetto alla responsabilità civile può accordarsi col danneggiato sull'entità del risaricimento e si libera dall'obbligo pagando nell'ammontare. Quindi pochi danni cosa vuol dire? Se rimaniamo nell'ordine dei 400-500 euro di danni, conviene mettere in mano il portafoglio e pagare direttamente perché se interviene l'assicurazione, verremo poi a pagare ulteriormente perché poi vedremo il discorso del bonus malus. Quindi l'assicurazione, sì sì che rimbolse danni, però ci aumenta quello che poi noi dovremmo pagare, ci aumenta il premio. Quindi nell'ordine dei 400-500 euro conviene mettersi d'accordo con quello che ha subito i danni e pagare o che magari c'è un amico che è carrozziere, quindi dico guarda vai dal mio amico e poi metterà a posto l'auto a mie spese, senza far intervenire l'assicurazione se è possibile. E' chiaro che l'altra persona deve essere d'accordo, se non è d'accordo allora facciamo chiaramente questo modulo qua. Quindi chi è soggetto a responsabilità civile può presentare regolare denuncia alla propria compagnia di assicurazione liberandosi dal luogo del risarcimento. A questo punto abbiamo detto tutti i veicoli sono assicurati, quindi tampona una persona, vedo che i danni sono più che potrebbero essere più di 300-400 euro perché ho sfasciato tutto il paravuti da parte posteriore, compiliamo i CID che dovremmo sempre averne uno in macchina. Ogni tanto mi ferma qualcuno in mezzo alla strada che ha un incidente, sanno che bene o male l'autospora ce l'hanno e me lo chiedo se io lo posso dare. Io ne ho sempre uno o due in macchina proprio per questo, perché è l'unico modo per avere la certezza di mettere tutti i dati, perché magari nell'agitazione che c'è un incidente o mi dimentico di scrivere il numero di patente o il numero di assicurazione, invece qui è già precompilato, devo solo rispondere praticamente ai requisiti che mi vengono posti, quindi siamo sicuri che non dimentichiamo niente. Si compone di due parti, forse l'abbiamo già visto, da una parte metto tutti i miei dati, quindi i dati del mio veicolo, i dati della mia patente, del proprietario del veicolo, forse un altro, dall'altra quella della controparte, segniamo quel mezzo nella parte centrale, ci sono i casi più, quelli che capitano più spesso, uscire da un parcheggio, faceva retromarcia, si metteva, sorpassava, facciamo un piccolo schizzo sotto, segniamo il punto iniziale con una freccia dell'urto e dobbiamo chiaramente entrambi firmare. Abbiamo detto che deve essere comunque chi tampona, comunque chi causa i danni, deve essere responsabile di firmare e accettare quello che sono effettivamente le eventualità di come è successo l'incidente. Quindi chi è soggetto a responsabilità civile può far riparare il proprio autoveicolo. Cosa vuol dire? Che se io ho causato dei danni perché ho tamponato un veicolo, l'assicurazione rimborsa i danni a quello che ho tamponato il veicolo, ma i miei danni, a meno che io ho una polizza che si chiama casco, che copre tutto quanto, altrimenti i miei danni me li devo pagare io. A questo punto io non devo aspettare che venga imperito l'assicurazione per la valutazione dei danni, le posso portare in officina, tanto sono i danni che ho causato io e me li devo pagare io. In officina piuttosto che in carrozzeria. Quindi chi è soggetto a responsabilità civile può farsi assistere da un consulente di infortunistica stradale durante le operazioni di liquidazione del danno. Sono i cosiddetti periti dell'assicurazione che effettivamente valutano quelli che sono i danni che ho causato prima di farmi il rimborso. Per cui io posso portare dal carrozziere alla mia auto a fare una valutazione. Il carrozziere fa un preventivo, però il preventivo per essere pagato dall'assicurazione stessa deve essere controllato da un perito dell'assicurazione che effettivamente controlla i pezzi che sono da sostituire e valuta le ore necessarie per la sostituzione. A questo punto quando il perito determina effettivamente la cifra, la cifra che viene determinata dal perito è quella che mi rimborsa. Quindi il carrozziere mi può scrivere anche 4.000 euro di danni, però se la valutazione è solo 3.000, l'assicurazione mi rimborsa 3.000 euro. 3.000 euro. Poi la responsabilità penale invece, che è quella che dicevamo, speriamo che non capiti mai, sorge a seguito dell'incidente quando si provocano lesioni gravi alle persone coinvolte. Lesioni gravi, ripeto, 40 giorni di prognosi continuativi, quindi non che uno va in ospedale, sta 10 giorni, poi esce, poi rientra, non sono continuativi in quel caso, ma 40 giorni continuativi o peggio ancora la morte di quello che ha subito l'incidente. In quel caso lì abbiamo il penale, quindi responsabilità penale, copre solo chi guida, quindi il proprietario del veicolo, se è un'altra persona che ha avuto un incidente, chiaramente, non è coinvolto, è solamente il penale, è solamente proprio chi guida. Quindi sorge a seguito l'incidente quando si causa involontariamente la morte delle persone coinvolte in un incidente colposo. Certo, involontariamente, è chiaro che io non vado in giro con l'auto per ammazzare le persone. Può capitare un incidente, non ho visto il semestre, mafo o qualunque cosa. Quindi è chiaro che se causo la morte di una persona non è volontaria. Purtroppo è un incidente, però in ogni caso devo pagarne le conseguenze, perché se ho causato la morte di una persona è perché magari non ho rispettato le norme del codice della strada. Quindi la responsabilità penale, azioni contro il codice penale, appunto, nell'eventualità che ci siano danni alle cose, abbiamo visto che non rientra responsabilità penale. Quindi danni cose, o persone, o animali, e scusa la morte comunque, è solo responsabilità civile. Quindi dobbiamo solo rimborsare i danni. Più, eventualmente, la responsabilità amministrativa. Nel senso che se io sono andato a sbattere contro un cancello perché ho preso una curva troppo veloce e intervenendo dalla polizia farà il verbale, mi interesserà una sanzione amministrativa, perché la mia guida è una guida eccessiva, quindi sarà multa, e in più dovrò rimborsare i danni che ho causato. Poi, la responsabilità penale, invece, scusa, quando? A seguito di un incidente, vediamo che è arrivato. A seguito di un incidente, quando? Anita è uscita? Non sono mai uscita, scusa, mi beppe, sono con la bimba, allora. Ah, non importa. E scusa a seguito di un incidente, quando il fatto dipende da causa di forza maggiore, pertanto non è considerato reato. Un'alluvione che la mia auto piglia, me la portano via e magari ammazza delle persone o cosa, in quel caso lì è una causa di forza maggiore, terremoto. Non dipende dalla mia volontà. Quindi, la penale è scusa quando il fatto non è considerato reato, quindi se non è considerato reato, è chiaro, non avremo un processo. E poi, per quanto riguarda, invece, la patente, chi è civilmente penalmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione, sospensione o revoca della patente di guida. Quindi, in qualsiasi caso, ad esempio, anche civilmente, non solamente penalmente, ma civilmente, nell'eventualità che io abbia fatto l'incidente perché la mia velocità era eccessiva o perché ero in stato di ebrezza, quindi, oltre ad avere la sanzione amministrativa, senza che ci siano dei morti o dei feriti, ma ho fatto un incidente proprio perché le mie condizioni fisiche non erano idonee per la guida, in quel caso lì, oltre ad avere la sanzione amministrativa, sospensione della patente, ci può essere anche la revisione della patente. Cosa comporta la revisione della patente? Comporta di fare di nuovo l'esame d'editoria e l'esame di guida o addirittura revoca della patente. Revoca della patente può esserci perché, ad esempio, vabbè, io devo fare l'esame di revisione, non supero l'esame di revisione e quindi sto bocciato l'esame di revisione e la mia patente viene revocata, a seguito sempre dell'incidente. Definizione che troveremo, tutte false queste, la responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato, no. Quindi anche se chi guida l'auto è scappato, vengono a trovare, perché dal numero di targa si risarga il proprietario del veicolo. Però a quel punto penalmente non possono, diciamo, perché abbiamo visto, penalmente solo chi guida, non possono, al massimo non possono far pagare tutti i danni come responsabilità civile, ma penalmente non possono andare in galera per un'altra persona, ok? Quindi falso. Chi è penalmente civilemente responsabile di un sinistro stradale è sempre soggetto all'arresto preventivo? No. Sempre soggetto, non è. Solamente in casi, cioè, dove c'è, ad esempio, omissione di soccorso e fuga, allora lì c'è l'arresto preventivo. Ma se no, non c'è sempre l'arresto, ci sarà il processo e tutto, poi se risulta effettivamente effettivamente che sono io responsabile, allora c'è eventualmente l'arresto. Ma se no, non c'è sempre l'arresto. Poi la responsabilità penale, connessa al sinistro stradale, esclusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che esercisca adeguatamente di danneggiata, no, perché abbiamo detto l'assicurazione copre i danni per quanto riguarda la responsabilità civile. La responsabilità penale, se io devo andare a subire un processo, non c'è assicurazione, non è come in America che si può pagare una cauzione e un filo. Quindi l'Italia non esiste. Quindi l'assicurazione non paga niente e se devo andare a processo andrò perché c'è, in questo caso, la responsabilità penale che ne risponde solamente chi guida. Poi la responsabilità penale, connessa al sinistro stradale, esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima, no. Se la vittima è morta, anche se mi sono fermato e ho dato assistenza, e purtroppo la responsabilità penale c'è sempre. Ultima, la responsabilità civile, connessa al sinistro stradale, è aggravata dalla mancata copertura assicurativa. In questo caso, attenzione, non è responsabilità civile, è aggravata, la responsabilità civile è sempre la stessa, nel senso che io devo pagare sempre i danni, a questo punto, anche se non c'è l'assicurazione, devo pagare, abbiamo visto, le tasca mia. L'importo che ho causato i danni, quindi se è un milione di danni, pagherò un milione di danni, se c'è avverceli. Va bene, vediamo un pochettino di domande. Tiziana, la responsabilità penale, connessa al sinistro stradale, esclusa quando vi siano danni involontari, alle sue cose. La responsabilità penale, connessa al sinistro stradale, è esclusa quando vi siano involontari. È vero. È vero. Solo danni a cose è civile. Anita, la responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico solo del conducente del veicolo se ci sono stati danni alle cose. Vero. Attenzione. La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli se ci sono danni alle cose è responsabilità civile. La responsabilità civile invece è a carico sia di chi guida che del proprietario del veicolo. Ok. Civile. Qui mi parla di danni solamente alle cose. Anita, di nuovo, la responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa per danni di lieve entità. Falso. Falso, perché se io faccio anche danni solo per 5 euro sono sempre responsabile e devo sempre pagare 5 euro. Vanessa, chi è civilmente obbligato a esercire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore del risarcimento. Vero. Ok. Samuele, chi è penalmente civilmente responsabile di un sinistro stradale è tenuto al risarcimento dei danni? Vero. Sì. Elisa, la responsabilità civile connessa al sinistro stradale è aggravata dalla mancata copertura assicurativa. Falso. Bravissima. Desiree, la responsabilità civile connessa al sinistro stradale consiste nel robur di risarcire i danni causati sia alle persone che alle cose. Causati sia alle persone, vero? Sì, persone, animali e cose. Dobbiamo risarcire i danni per tutte queste possibilità. Fofana, la responsabilità civile connessa al sinistro stradale è scusa in caso di morte dell'analeggiato. Falso. Falso, perché c'è sempre, i danni li devo sempre rimborsare. Mattia, chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è sempre soggetto all'arresto preventivo. Falso. Falso, scusate un attimo, chiaramente subito che li stanno per chi è andato. Allora, io voglio. Allora, io voglio. Eccomi, 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 eccomi. Eccomi qua. Ok. Mattia, responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato. Vero. Penale, ricordiamoci, penale è solamente di chi guida. Può farne la responsabilità penale connessa al sinistro stradale e scusa quando il fatto non sia considerato un reato? Falso, Beppe. Vero. Penale, se non ho ammazzato una persona o se non è rimasto ferito, scusa, non è un reato. Ah, ok, ho capito. Desiree, la responsabilità penale connessa al sinistro stradale e scusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che esercisca adeguatamente il danneggiato. Vero? O no? Ricordiamoci, l'assicurazione non va in prigione per me. Ah, ok, giusto. Rimbolsa solo i danni. Se devo andare in prigione ce lo darei io. Sì. Elisa, la responsabilità per danni connessa alla circolazione dei veicoli non è a carico del proprietario del veicolo se prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Elisa? Falso. Vero. Mi rubano la macchina, non sono più responsabile. Ok, ho fatto denuncia. Samuele, la responsabilità per danni connessa alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente e del proprietario del veicolo se si tratta di responsabilità civile. Samuele, sì c'è. Samuele? Niente. Vanessa, te la faccio a tenere. La responsabilità per danni connessa alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente e del proprietario del veicolo se si tratta di responsabilità civile. Non c'è più nessuno? Falso, Beppe. Ah, falso. Chi è, Samuele? Vero? Responsabilità civile è a carico di chi guida e del proprietario. Ok. Anita, chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può, in alternativa, chiedere che la propria patente di guida sia revocata? Non c'è nessuno, Beppe. Falso. E dove sono andati tutti? Ah, falso, certo. Non mi rispondete più. Tiziana, chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo? Allora, chi è civilmente obbligato a risarcire? I danni provocati da un sinistro stradale può riparare più. Vero? Ok, andiamo avanti perché qua vedo che c'è un po' di confusione, quindi andiamo avanti col quiz e vediamo se avete qualche dubbio che non avete capito, dimmelo, se no io penso che sia tutto a posto e vado avanti. Mattia, di nuovo, la responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge allorché vengano violate norme contemplate dal codice penale. Vero. E questo qui è vero perché norme del codice penale è chiaro che c'è responsabilità penale. Popana, la responsabilità civile connessa al sinistro stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose? Falso. Bravissimo perché non solamente alle cose ma anche animali e persone. Bene. Desiree, chi è civilmente, quindi responsabilità civile, obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può farsi assistere da un consulente di infortunistica stradale, il cosiddetto vero, perfetto. Elisa, la responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi di lesioni gravi a persone. Vero. Vero, lesioni gravi, quindi appunto o la morte o un ferito grave. Samuele, la responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo. Grazie. Samuele, ogni tanto sparisce. Niente, Vanessa, la responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo. Vero. Civile. Ah sì, sì. Civile. Adesso mi confondiamo anche io. Vero. Anita, chi è civilemente obbligato a esercire i danni provocati da un sinistro stradale si libera da ogni forma di responsabilità penale pagandone l'ammontare del danno. Falso. Falso, perché il penale non possiamo pagare ma dobbiamo subire il processo. Tiziana, chi è penalmente civilemente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revoca della patente di guida. Vero. Sì, perfetto. Allora, proviamo ad andare avanti un pochettino, poi eventualmente lo riprendiamo, questo del penale, perché è sempre un po' bisogna entrare nell'ottica un pochettino. Allora, assicurazione RCA. L'abbiamo già anticipato prima che tutti i veicoli che sono in circolazione su tutto il territorio italiano, ma anche europeo, quindi su tutte le strade pubbliche, devono essere coperti dall'assicurazione RCA. RCA che appunto vuol dire che dobbiamo rimborsare i danni a persone, animali e cose. Quindi, se io faccio l'assicurazione in Italia, la mia assicurazione mi copre anche, visto che c'è praticamente la comunità europea, mi copre anche i danni che io posso causare in Francia o in Germania. L'assicurazione è stata estesa proprio a coprire i paesi, quindi tutte le assicurazioni avranno fatto una convenzione di garantire su tutto il territorio europeo la copertura dei danni. Sì, aree pubblico, aperta al pubblico. Per quanto riguarda la polizza, la polizza di assicurazione è il contratto che io firmo quando, diciamo, mi compro un'auto, prima di poter immatricolare il concessionario, non mi fa uscire dal concessionario stesso, se non vado con l'assicurazione, perché sennò riesco a usare il concessionario. Per cui ho comprato la mia auto, ho dovuto quindi andare a firmare un contratto dove abbiamo stabilito quant'è il premio che io posso, che devo pagare. Quindi la responsabilità RCA copre la responsabilità civile che ove il conducente e il proprietario, come abbiamo visto prima, a risarcire i danni causati a cose, persone, animali o persone trasportate, entro i massimali. I massimali è l'importo massimo che la mia assicurazione rimborsa. Non lo stabilisco io, ok? L'importo massimo che l'assicurazione rimborsa è stabilito tramite un decreto dello Stato. Dovrebbe essere adesso, se non vado errato, dovrebbe essere 2 milioni e mezzo per ogni singolo sinistro. Quindi se io causo dei danni superiore a 2 milioni e mezzo, che ne so, per colpa mia un autobus con 100 bambini finisce giù nella scarpata, non bastano 2 milioni e mezzo, a quel punto l'assicurazione rimborsa fino a 2 milioni e mezzo, che è l'importo massimo, il massimale vuol dire proprio l'importo massimo che l'assicurazione rimborsa. I restanti milioni che devo pagare metto mano al portafoglio e li devo aggiungere io, ok? Quindi ogni contratto di assicurazione prevede appunto un importo massimo stabilito dalla legge che è l'importo che l'assicurazione rimborsa. Questo importo qua, proprio perché è stabilito con una legge, non può essere diminuito. Quindi io non posso dire della situazione, ma guarda, sono 40 anni che guido, non ho mai fatto un incidente, per me 2 milioni e mezzo sono esagerati, perché tanto io non vorrei mai un incidente con un autobus con 100 bambini. Voglio un massimale più basso, però mi devi fare pagare di meno la situazione. Non è possibile, ok? Perché è proprio stabilito da una legge. Se invece posso aumentarlo, nel senso che io posso dire, ma guarda, per me 2 milioni e mezzo, voglio stare più tranquillo, perché può dare scarpe ad un incidente con un autobus con 100 bambini, lo voglio portare a 5 milioni, in quel caso lì lo posso fare. Pagherò un po' di più l'assicurazione, però ho una copertura maggiore, ok? Quindi il massimale è l'importo massimo che l'assicurazione rimborsa. Non può essere diminuito, può essere aumentato. Ok, quindi l'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati, quindi copre anche le persone, ecco, le persone che sono in auto con me, anche se sono i miei familiari, quindi mia moglie e mia figlia, se io ho un incidente, essi fanno male a torto, perché non ho rispettato uno stop, un veicolo mi è venuto addosso, quindi la responsabilità è mia che stavo guidando, l'assicurazione copre anche i danni alle persone che sono in auto con me. Non mi copre i miei danni, quindi se io mi faccio male, l'assicurazione non mi copre i miei danni, perché sono io che ho causato l'incidente. Però le persone che sono coinvolte nell'incidente per colpa mia, che sono quello che ha stipulato il contratto dell'assicurazione, che sono quello che non è sempre fermato allo stop, vengono risarcite, ok? Quindi l'assicurazione obbliga RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati, i terzi trasportati sono appunto le persone che sono in auto con me. Sei veicolo autorizzato al trasporto di persone. È chiaro che se sono la guida di un autocarro, che non è autorizzato al trasporto di persone, ci sono delle persone che io ho messo nel cassone, perché stiamo facendo così un giro, io ho messo nel cassone, è un incidente, in quel caso lì non vengono rimborsati perché l'autocarro non è attribuito al trasporto di persone. Ma se sono su un autobus, che guida un autobus con le persone sopra, tutte le persone che sono sull'autobus saranno rimborsate. Infatti, l'assicurazione degli autobus è molto più cara perché hanno un valore umano sopra che è decisamente maggiore rispetto, ripeto, di un autobus 50-60 persone, rispetto a un'autolettura che al massimo siamo in 4 o 5. Quindi l'assicurazione sull'autobus, chiaramente, il titolare della ditta di autobus pagherà dell'assicurazione molto alta, ma almeno è sicuro che tutti quelli che sono sull'autobus in caso di incidente sono coperti. Allora, come dicevamo prima, il massimale, la cifra massima che la compagnia pagherà in caso di sinistro. Quindi abbiamo detto dovrebbe essere 2 milioni e mezzo e 2 milioni e mezzo è quella massima. Per ogni sinistro, cosa vuol dire per ogni sinistro? Che se io nell'arco di un anno ho 5 sinistri, tutti i 5 sinistri sono garantiti a 2 milioni e mezzo, non perché magari solamente il primo o il secondo vanno a scalare. Tutti quanti i sinistri sono garantiti con l'importo massimo. Quindi la somma minima dei massimali non può essere diminuita, ok? Quindi può essere aumentata pagando una maggiore somma di denaro alla compagnia assicurativa. Quindi la quota minima che è l'importo con i 2 milioni e mezzo è minima. Non la possiamo diminuire, la possiamo aumentare pagando un premio maggiore. È tutto chiaro? Massimale adesso come funziona? Sì, per ora sì. Bene. Allora, il premio, ecco invece, il premio non è che mi danno un premio perché sono bravo, il premio purtroppo viene definito come l'importo che il contraente, il contraente cos'è? Quello che fa l'assicurazione verso la compagnia di assicurativa in cambio della copertura del rischio indicato nella polizia. Cosa vuol dire? Quando io vado a fare l'assicurazione mi viene fatto il contratto e mi dice guarda, l'assicurazione all'anno facciamo una cifra diciamo semplice paghi 1000 euro all'anno. I 1000 euro che io pago è il premio viene chiamato premio ok? Che mi dà la garanzia per quanto riguarda se ho un sinistro che mi copre una copertura su 2 milioni e mezzo quindi mi copre tutti i danni. Quindi il premio ricordiamoci quanto io pago all'assicurazione. Varia. Sì, varia a seconda ad esempio se io sono residente a Napoli piuttosto che sono residenti a Borzano in base alle statistiche che vengono fatte dall'Istat perché a Napoli ci sono molto più incidenti e quindi essendoci più incidenti l'assicurazione costa di più. Varia secondo anche le donne pagano di meno rispetto agli uomini perché anche secondo anche le statistiche gli uomini hanno più incidenti dalle donne. Varia in base all'età i giovani hanno un'assicurazione più cara rispetto a una persona di 40 anni perché sempre in base alle statistiche i giovani fanno più incidenti. Varia a seconda dell'auto che guido perché una Panda rispetto a una Ferrari la Ferrari è più rischio di fare incidenti essendo più grossa. Ok? Quindi per quanto riguarda il premio che io vado a pagare non è sempre fisso. Ok? Varia appunto secondo a queste varie possibilità. Beppe ma quindi praticamente noi che siamo neopatentati facciamo l'assicurazione pagheremo una somma più elevata e poi dopo quanti anni diminuisce questa paga? Eh questa qui diminuisce praticamente ogni anno se non perché rientriamo del bonus malus adesso purtroppo devo andare perché sono le tre e devo andare in guida lo vediamo poi ditemi voi se domani avete piacere finiamo il discorso perché di solito a venerdì facciamo solamente quiz ma se avete piacere finiamo il discorso dell'assicurazione facciamo magari una scheda ma andiamo avanti con l'assicurazione e finiamo questo discorso qua perché se no lo vado a riprendere poi lunedì ok lunedì non è festa esatto quindi niente io direi ci vediamo domani e lo concludo domani questo almeno finiamo il discorso dell'assicurazione ok 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 martedì sì è normale martedì è normale sì sì allora io lo seguo quello che è registrato purtroppo non riesco va bene stasera se volete comunque se avete piacere vi faccio di nuovo questa lezione ok va bene grazie grazie buon pomeriggio a tutti ok grazie ok grazie ciao ciao